Un saluto e ben trovati telespettatori di Le Fonti TV, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Agora Fiscale, il format esclusivo di Le Fonti TV dedicato all'approfondimento delle tematiche di natura fiscale, naturalmente sempre viste con l'occhio dell'impresa e dell'imprenditore. E in particolare, proprio oggi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi una realtà che, come dire, già nel nome pone l'accento e promette di mettere al centro del suo interesse proprio l'imprenditorialità e l'impresa. Benvenuto a Francesco Cardone, founder di Imprefocus. Grazie, grazie. Dottor Cardone, con lei oggi parleremo di un argomento estremamente importante, di imprenditorialità 4.0 di consulenza e innovazione. E lo facciamo con una realtà che non si pone come tradizionale studio di consulenza, ma l'innovazione proprio nel suo DNA, prima ancora di proporle ai suoi clienti. Vorrei lasciare la parola a lei affinché possa descriverci un po' la genesi del progetto e soprattutto quali sono poi i tratti distintivi. Guardi, io penso che la consulenza deve essere svolta in maniera completamente diversa. Al primo posto bisogna mettere gli imprenditori al centro, già nella nostra denominazione, in prefocus, il focus sull'impresa. E oggi bisogna far capire agli imprenditori che bisogna essere un po' camaleontici, bisogna avere una flessibilità importante. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Io nel 2017 sono stato premiato dal Politecnico di Milano per essere commercialista più innovativo d'Italia, grazie all'utilizzo dell'outsourcing e del cloud. Noi stiamo spingendo sempre di più, perché la mia realtà è a sede a Caserta, come unità operativa a Milano invece come sede legale, ma quello che noi vogliamo fare è quello di essere accanto agli imprenditori, essere accanto agli imprenditori in maniera digitale, tecnologica, creando delle innovazioni rispetto agli altri. Io mi definisco un po' il commercialista divergente, divergo un po' dal modo, dal classico cliché, io li chiamo commercialisti old style, cerco di fare un'attività professionale completamente diversa, stando accanto agli imprenditori. Per noi l'elemento fondamentale è andare al di là delle aspettative dei clienti. Siamo uno studio importante, ma noi vogliamo andare al di là delle aspettative. E quindi abbiamo creato un sistema che si chiama Impresa Vincente, dove noi ogni 16 del mese consegniamo al cliente telematicamente il bilancio, situazione economica e patrimoniale, i suoi registri IVA e tutta la sua situazione. A questo poi affianchiamo una business coach con uno dei nostri collaboratori per parlare del bilancio con gli imprenditori. Oggi più che mai questo deve essere un elemento fondamentale. Ecco, lei stesso l'ha anticipato, oggi più che mai c'è stato bisogno di rivedere in parte il proprio business, i propri assetti. Quindi vorrei chiedere a lei come le imprese hanno affrontato questi anni di Covid e quali nuovi assetti hanno dovuto darsi? Come siete stati utili loro? Guardi, sono stati due anni difficili. Da marzo del 2020 questa è una nuova economia e io sento a volte quando parlo con gli imprenditori come se aspettassero che ritornasse qualcosa. Non ritornerà più quello che era il tempo che è andato. Quindi oggi l'imprenditore deve effettuare uno switch, un cambiamento. Io penso che la pandemia ci abbia insegnato due cose. Primo che le aziende non possono essere sull'offline e anche le aziende che non vendono devono dare valore sul web. Noi nel corso dell'anno 2020 ho cercato, in tante dirette che ho fatto sia come in Prefocus sia con altre aziende, ho cercato di dare positività agli imprenditori. Un atteggiamento mentale positivo, delle emozioni positive. Il momento era già difficile. Accendevi la televisione e sentivi tutte cose che non erano talmente positive. Quindi ho cercato di dare positività. E l'altro argomento fondamentale è la flessibilità. L'imprenditore deve essere flessibile. Oggi non possiamo pensare di fare imprese per come ci piace. Noi dobbiamo fare imprese per quello che vogliono i nostri clienti. E quindi la flessibilità è un elemento fondamentale. Quando tu crei la strategia d'azienda e poi ti rendi conto che quella strategia non sta andando nella giusta direzione. Devi essere bravo come un marinaio che va per mare, come un comandante di una nave, devi essere bravo a cambiare la rotta. Questo secondo me è quello che ci ha insegnato la pandemia in maniera prepotente. Ecco, questi cambiamenti di rotta che sono stati tanti nel corso degli ultimi due anni, chiaramente la pandemia, inutile ribadirlo e sottolinearlo, ha lasciato una scia per le imprese importante sotto tanti punti di vista negativo. Lei però ha iniziato a lanciare un messaggio di speranza e di positività legato anche a questo periodo citando alcuni elementi come la flessibilità, per esempio. Cos'altro di positivo, guardando un po' anche alla vostra attività, si sentirebbe di dire agli imprenditori che ci ascoltano? Io penso che gli imprenditori devono capire una cosa. È finito il tempo del fatturato. Non bisogna essere focalizzati al fatturato dell'azienda. È chiaro che deve esserci fatturato perché se non c'è fatturato non ci sarà mai redditività per un'azienda. Però l'imprenditore deve porre la propria attenzione sulla redditività. Perché è la redditività quel valore aggiunto che permette all'imprenditore di avere successo nella sua attività. Quindi focalizzarsi sul margine di contribuzione, focalizzarsi sulle bidà della propria azienda. Cioè questo permette all'imprenditore di avere un'azienda che sia redditiva. A volte quando noi parliamo di impresa sembra un po' brutto parlare di redditività o di utile. Invece io penso che lo scopo di un'impresa sia essenzialmente la redditività. Se lei pensa alla mentalità americana, anche dei grandi donatori che ci sono in America. In America esiste una cosa che si chiama la decima. Cioè gli imprenditori donano in beneficenza il 10% degli utili. Allora l'imprenditore deve essere focalizzato alla redditività. Poi da quella redditività può fare beneficenza, può fare qualunque tipo di discorso. Però dobbiamo smettere di essere innamorati del volume d'affare. Il volume d'affare è una vecchia concezione anche del sistema bancario che valutava le aziende in virtù del fatturato. Oggi dobbiamo essere focalizzati all'ebità e all'utile dell'azienda. Perché quello che crea valore crea valore per l'imprenditore, per la famiglia dell'imprenditore, per se vogliamo fare donazioni, ma anche per i nostri collaboratori. Premiare i nostri collaboratori in virtù dei risultati dell'azienda. Quindi non più uno stipendificio di azienda, ma un'azienda che remunera con dei premi i propri collaboratori, oltre quello che è previsto dalla norma, in virtù delle utilità che si portano in essere. Quindi questa è la nuova mentalità. L'imprenditore 4.0 deve avere questa focalizzazione. D'altronde è l'unico modo in cui si può creare anche quel virtuosismo economico. Perché diciamo, poi senza redditività non c'è appunto positività nel flusso economico. Proviamo a calare un po' e a fare qualche caso concreto, perché abbiamo avuto modo a telecamere spente di discutere di alcuni casi molto interessanti che sono dei veri e propri casi di studio da voi trattati. Vorrebbe connevidere con i nostri telespettatori uno di questi casi proprio per dare loro degli strumenti concreti. Guardi, innanzitutto le voglio dire che noi negli ultimi tre anni, con un'attività che abbiamo fatto di marketing, altro elemento fondamentale, tanti imprenditori quando incominciano ad andare un po' in difficoltà, la prima cosa che tagliano sono i costi di marketing. È l'errore più grande che possa fare un imprenditore. Invece bisogna continuare a investire in marketing anche quando l'azienda non sta performando alla grande. E quindi noi con questa attività che facciamo di marketing, grazie a mia figlia Francesca, che è la responsabile marketing ed in pre-focus, noi diamo tanta attenzione, tanto che negli ultimi tre anni 2018 abbiamo incrementato il nostro fatturato del 35%, 2019 più 54%, l'anno della pandemia 2020 è stato il nostro anno dei record con un più 69%, 2021 stiamo andando al di là del record dello scorso anno. Guardi, io a novembre 2019 ho conosciuto un imprenditore a Bologna, il suo commercialista aveva consigliato di portare i libri per fare un concordato preventivo, ma quello che mi aveva colpito era il malessere che ho letto negli occhi di quell'imprenditore. Allora io ho detto, senti facciamo una cosa, io vengo da te in Veneto, mi offri un caffè, facciamo due chiacchiere guardando il bilancio della tua azienda, nel corso dell'anno 2020 questa azienda ha avuto il record di fatturato, record di utili, e la cosa che mi ha colpito io quando entro in un'azienda dico, ti dimostrerò che per te sono un ricavo, non sono un costo. Lui ad aprile del 2021, sono andato lì da lui, dice io ho deciso di darti un premio e mi ha concesso un premio perché dice tu mi hai fatto diventare più giovane di 30 anni. Questa è una cosa che mi inorgoglisce, non il premio economico, ma il riconoscimento da parte dell'imprenditore. Vede noi ogni tre mesi abbiamo creato un contest, si intitola Che impresa vincente? Premiamo le nostre aziende e clienti nel trimestre che hanno avuto il miglior EBITDA e i migliori margini di contribuzione. Abbiamo fatto la prima premiazione nel primo trimestre 2021, la seconda di giugno l'abbiamo fatta adesso a settembre e adesso al 30 settembre premiremo le aziende. Noi abbiamo tante aziende che hanno grandi redditività, vede io penso che il mondo si stia un attimo livellando tra quelli che stanno facendo tanti soldi e quelli che stanno andando in difficoltà. La differenza è proprio questo switch, il cambiamento e oggi più che mai bisogna essere attenti a fare in modo che le aziende pongano la loro direzione, la loro rotta sulla redditività. Allora bisogna insegnare agli imprenditori come leggere un bilancio. A volte gli imprenditori non sanno leggere un bilancio, a volte gli imprenditori non sanno guardare il cash flow della loro azienda o l'EBITDA della loro azienda. Quindi il lavoro del professionista oggi più che mai deve essere anche quello di educare gli imprenditori a capire come si fa impresa, perché nessuno ha insegnato agli imprenditori come si fa impresa. Quindi questo è l'elemento fondamentale della pandemia. Cioè in questo periodo storico, in questo momento storico bisogna fare delle cose diverse, bisogna essere divergenti, bisogna andare al di là. C'è stato solo 24 ore, mi pare che qualche settimana fa ha detto che sono aumentati i ritti del 10%. Anche il grande Albert Einstein, nel mondo come lo vedo io negli anni 50, diceva che la crisi è una grande benedizione. E sarà una grande benedizione per chi cavalcherà il cambiamento. Questa è la realtà. E noi dobbiamo essere bravi su questo. E i professionisti devono essere sempre più accanto agli imprenditori. Assolutamente, ricordiamoci insomma la grande crisi del 29, di esempio ce ne sono anche altri, come ribaltare una crisi in opportunità di crescita. Assolutamente, concordo con lei. Prima citava un contest. Molto interessante perché in realtà richiama, anche se non erro, un libro che ha pubblicato ultimamente, che si chiama proprio Impresa Vincente. Già dal titolo si intuisce ancora una volta come nel nome della sua realtà, del suo studio, quello che è il messaggio che vuole lanciare al suo pubblico e ai suoi clienti. Vuole un po' parlarci di come è nato il libro, a quali esigenze risponde e perché mettere nero su bianco quello che potrebbe invece tenersi come un segreto professionale, come a volte succede nell'ambito della consulenza e custodirlo. Guardi, io sono stato uno scout da 11 a 26 anni, per 15 anni della mia vita. E quindi per me ci sono due valori che sono fondanti della mia vita. La gratitudine e il contribuire. Sono grato alla vita per tutto quello che la vita mi ha dato e mi piace dare agli imprenditori, dare agli altri. Poi tutti quanti noi abbiamo un conto corrente universale che è fatto di tanti versamenti. Se io do ad un imprenditore non è che riceverò da quell'imprenditore, posso ricevere dal mio conto corrente universale in termini di serenità, felicità, salute, ricchezza. Quindi la mia idea qual è stata nel fine 2018 quando ho pubblicato questo libro? È stato quello di insegnare agli imprenditori a fare l'impresa. Quali sono i tre elementi fondamentali per fare l'impresa? Allora il mio sistema è educa, cresci e proteggi. Educa significa formare gli imprenditori, come le dicevo prima, a fare l'impresa. Cioè oggi un imprenditore non può dire il mio commercialista che mi tiene la contabilità, ma la contabilità non serve per l'agenzia delle entrate. La contabilità di un'impresa serve all'imprenditore per le sue scelte strategiche. Io non sono un commercialista che fa la contabilità per l'agenzia delle entrate, io non sono un commercialista dispensatore di F24. Il bilancio dell'imprenditore serve per le scelte dell'imprenditore. Quindi educare l'imprenditore a fare l'impresa. Secondo, redditività. Ritornano sempre, no? Perché redditività? Perché è dalla redditività che io posso generare quella liquidità, che poi questa liquidità posso utilizzarla per fare degli investimenti. E come diceva il gran Robert Chiosaghi, il padre ricco, il padre povero. Il padre povero è colui che lavora per guadagnare i soldi, lo stipendificio che dicevamo prima. Invece il padre ricco è colui che fa lavorare i soldi per guadagnarne altri. Quindi se io ho un'impresa redditiva, come le buone formichine accantono quella liquidità, da quella liquidità posso per esempio fare degli investimenti immobiliari o immobiliari che possono permettere all'imprenditore di accantonare, di accrescere il proprio patrimonio. Terzo elemento fondamentale è la tutela del patrimonio della famiglia dell'imprenditore. Io penso che uno degli scopi della mia vita, dirò un termine importante ma mi crederlo, lo dico con grande umiltà, è migliorare la qualità di vita degli imprenditori. Nel mio nuovo libro, Tu sei un eroe, che uscirà penso per dicembre, a me non mi piace quando in tv, io sento parlare degli imprenditori come dei ladri, dei farabutti, degli evasori. Io penso che l'imprenditore, soprattutto l'imprenditore che ha cavalcato la pandemia, sia un eroe. Perché gli imprenditori che hanno cavalcato la pandemia sono stati degli eroi, sono stati anche degli eroi nei confronti delle famiglie dei propri collaboratori e dipendenti. Quindi è questo che dobbiamo porre in essere. Quindi per me è tutelare il patrimonio della famiglia dell'imprenditore, migliorare la propria qualità di vita, portare la serenità alle famiglie degli imprenditori. Prima a telecamere spente, no? Parlavamo della solitudine dell'imprenditore. Quando un imprenditore va in difficoltà smette di parlare. Non parla più col partner, non parla più con i figli, non parla più con i collaboratori, non parla più con gli amici. Perché in Italia il fallimento è un'unta incredibile. e quindi dobbiamo evitare che l'imprenditore si possa sentire solo. L'imprenditore deve sentirsi al centro della sua attività. E come dico sempre, la vita dell'imprenditore e l'azienda dell'imprenditore sono due cose diverse. Invece nella cultura italiana noi abbiamo questa capacità di accumulare la vita e l'azienda. Può capitare che un'azienda non vada bene. Quanti esempi abbiamo di grandi imprenditori che hanno fallito più volte nella loro vita. L'ultimo, l'ex presidente degli Stati Uniti, Trump. Allora il concetto qual è? L'imprenditore può capire che a volte può capitare una difficoltà nella sua vita lavorativa. Ma questo non deve incidere sulla sua vita personale, nei rapporti con il suo partner, con la famiglia, con gli amici e con i collaboratori. Questo secondo me è un messaggio importante da dare alle persone perché dobbiamo capire sempre di più che oggi dobbiamo essere camaleonti. Io lo dicevo prima e io lo ripeto. Dobbiamo essere camaleonti, dobbiamo cavalcare il cambiamento che c'è. Non ci sarà più il mondo che abbiamo conosciuto qualche anno fa. Dobbiamo saperci adattare alle novità che ci saranno tutti i giorni. Tutto quello che io e lei diciamo oggi. Domani potrebbe non essere più vero. Qui c'è un cambiamento tecnologico che è esasperante. E quindi dobbiamo essere bravi a stare sempre sul pezzo e ad essere sempre pronti ad effettuare dei cambiamenti delle nostre strategie imprenditoriali. Mi permetto di mettere un po' a fattore comune due degli elementi che citava come importanti. L'educazione è appunto quest'ultimo elemento, quindi anche la capacità di trasformarsi di cui stava parlando e di accettare il cambiamento e di essere camaleontici. Probabilmente bisognerebbe far rientrare nell'ambito dell'educazione anche questo aspetto perché si tratta di un cambiamento culturale. Citava anche l'America, Trump, stiamo parlando di universi culturali totalmente diversi. Quindi probabilmente se anche ci fosse un'educazione culturale, di un nuovo tipo di imprenditorialità, più flessibile, più abituata al cambiamento, esattamente come avviene all'estero, anche questa incapacità di molti imprenditori purtroppo di non mischiare due piani di esempi anche tristemente noti alla cronaca, ne abbiamo avuti molti purtroppo in questi due anni di pandemia, si potrebbe bypassare. E purtroppo non fanno manco più notizia, perché all'inizio faceva notizia quando c'era un imprenditore che prendeva delle decisioni particolari. Oggi non fa manco più notizia sui giornali. Però vede, lei diceva che l'imprenditore deve cambiare. Però noi dobbiamo dire che devono cambiare anche i professionisti. perché il professionista deve essere accanto all'imprenditore. Il professionista, come dicevo prima, non può essere soltanto quello che fa la parte fiscale dell'imprenditore. Io ho partecipato ad un'associazione che si chiama Imprenditore e non sei solo, dove facciamo consulenza e formazione gratuita ad imprenditori in difficoltà. Quando io mi incontro con loro, la prima domanda che faccio è in famiglia tutto bene? Non ha nulla a che vedere con la mia attività professionale. L'imprenditore deve sentire vicino il suo professionista, che sia il commercialista, che sia il consulente del lavoro, che sia il legale. Dobbiamo essere attenti a percepire e a dare i giusti consigli, perché l'imprenditore non deve essere lasciato solo in questo momento. A volte l'imprenditore ha bisogno anche di energie positive, di sentirsi emozionato. Quindi dobbiamo essere un po' più asettici e dobbiamo essere un po' più vicini agli imprenditori, cercando di dare quell'energia che nei momenti di difficoltà può servire tantissimo. Quindi il cambiamento deve esserci anche da, anche perché non possiamo aspettarci da chi ci governa, parlo in generale, e quindi dobbiamo essere obbligatoriamente imprenditori e professionisti. Vorrei lasciarla con un'ultima domanda. Accennava a un nuovo progetto editoriale, quindi vorrei puntare proprio su quello, cioè sul futuro. In ottica costruttiva proviamo un po' a descrivere quindi i progetti nel cassetto. Guarda, i nostri nuovi progetti oggi sono un videocorso, dei videocorsi che stiamo preparando per gli imprenditori, il mio mastermind, un incontro mensile con un gruppo di imprenditori, dove ogni mese abbiamo un argomento. Ad esempio i primi tre che abbiamo posto in essere sono stati tutela del patrimonio, strumenti finanziari alternativi e come leggere un bilancio. Il prossimo sarà la redditività. Oggi stiamo creando tutta una serie di prodotti, sistema impresa vincente, impresa patrimonio, impresa business. L'impresa business è l'analisi di bilancio, quindi gli indici del bilancio delle aziende. L'impresa patrimonio sono tutte operazioni straordinarie che possono servire con la costituzione di una holding per la tutela del patrimonio. Adesso stiamo creando dei nuovi prodotti, impresa dynamic, impresa strategica. Cioè stiamo creando tutta una serie di prodotti per fare in modo di essere sempre più vicini all'imprenditore. Anche il marketing è un altro elemento fondamentale. Noi commercialisti abbiamo studiato marketing. Nelle nostre attività professionali non facciamo marketing per i nostri imprenditori. Parlo maggiormente di marketing strategico, non di marketing operativo. E quindi nel mio libro Tu sei un eroe, dedicato agli imprenditori italiani, c'è tutta una parte che riguarda la gratitudine, il contribuire, la motivazione e la leadership. Poi andiamo nella parte più tecnica, dove parlerò di cash flow, tutela del patrimonio e tanti argomenti che devono essere di straordinaria importanza per la crescita dell'imprenditore. Oggi dobbiamo avere un imprenditore diverso. Questo penso che sia un mantra che dobbiamo tutti quanti porre in essere. Un cambiamento. Dobbiamo essere un cambiamento continuo. Questo è quello che io mi auguro per l'economia italiana, per gli imprenditori italiani e per i professionisti italiani. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi. Vorrei lasciarla però con la promessa di tornare in questi studi e continuare a parlare allora di questo cambiamento del suo nuovo libro. Grazie, grazie. Sarà un grande piacere. Grazie a Francesco Cardone, founder di Prefocus, e naturalmente grazie ai nostri telespettatori. L'appuntamento con Angora Fiscale per il prossimo mercoledì, solo sulle fronti tv.